Buonasera, ecco nel Tg da 0766 news.it dalla nostra tv web, intanto diamo i titoli, i finti disabili, aperta la caccia a Civitavecchia, due contravenzioni elevate, addirittura un tagliandino esposto quando il disabile è morto da tre anni, poi ci sono la consueta buca, questa volta la grande celerità del comune nel ripararla, ma stiamo parlando di Largo Cavour, quindi noi ci auspichiamo che questa grande sveltezza venga poi fatta anche al prossimo buco che avverrà magari a zona di Boccelle o a Campo dell'Oro. Detto questo, il Consiglio Comunale di ieri con l'affare Fiumaretta, poi tutte le nostre rubriche e il grande appuntamento con lo sport. Intanto nel Consiglio Comunale di ieri sono apparsi i primi screzi, cioè i debiti fuori bilancio, mandano su tutte le furie il Consiglio della Rosa, dovevamo informare i cittadini attuonato in Consiglio e poi alla fine grande bagarre tra gli stessi consiglieri della maggioranza, poi ovviamente tutto si è un po' ripianato, ma quindi le voci critiche si cominciano a far sentire, tanto è vero che nella serata di ieri anche il delegato allo sport, Massimiliano Parla, ha rassegnato protocollando le sue dimissioni. Lo stesso ha detto al di là del suo cognome che per il momento non parla e che terrà una conferenza stampa nei prossimi giorni per spiegare questo suo gesto. Intanto l'assessore Tuoro, che è l'assessore al bilancio di Cività Vecchia, è tra le sostenitrice della Faire Fiumaretta, cioè l'approvazione della riqualificazione dell'area, l'albergo, 200 posti e altre soluzioni, tutto per cercare di recuperare poi alla fine con il finanziamento, quei 3 milioni di euro che mancano nel bilancio delle casse comunali cedendo appunto quell'area che è appunto comunale. Per quanto riguarda i finti invalidi, abbiamo anche rivisto su web alcuni servizi di striscia della notizia che si riferivano però agli anni scorsi con appunto la spavalderia che la gente parcheggiava davanti alla cattedrale, mentre qui di spavalderia abbiamo ricevuto da un nostro lettore una macchina messa stabilmente tutte le mattine davanti alla stazione, questa signora poi parte tranquillamente col treno pure prendendolo di corsa e ritorna quando può senza dover trovare, senza l'assillo del parcheggio. Un suo compagno di viaggio ci ha mandato questa segnalazione e nel frattempo ieri le forze dell'Odine, i vigili rubatici vecchi hanno intensificato un po' di controlli e tra uno che parcheggia e scende dalla macchina e torna e non vedendo ovviamente il disabile, perché ricordiamo i permessi sono riusciati ai disabili e servono solo ed esclusivamente per il trasporto dei disabili stessi. In assenza quel permesso non vale niente, andrebbe stracciato ma io direi di più, non il permesso al disabile ma andrebbe ritirata la patente a colui che ne abusa, così il discorso poi finisce. Detto questo andiamo a vedere dal punto di vista pratico al Sala Gasman c'è l'amore da sempre un'altra occasione, il solito appuntamento di sabato e domenica con la Sala Gasman e poi passiamo alle rubriche per quanto riguarda la cucina, il nostro chef Gianni Bono ci presenta il bloccolo romano o romanesco perché questo è il suo tempo e ci ha anche la minestra di broccolo e arzilla come ricetta tipica della nostra zona. Il criminologo Gino Sanadini e sua figlia Giada ci raccontano la storia di Leonardo Cianciulli, pluriumicida, cioè meglio conosciuta come la saponificatrice di Correggio. Ovviamente è molto macro il racconto però merita di essere letto. Il dottor Alessandro Spampinato è il nostro psicologo, non che cantautore, ci racconta invece gli schemi malattitivi in amore. E poi passiamo alla ricca pagina sportiva in quanto con l'inizio del campionato di palla a mano, in pratica sono tutte in campo le squadre cittadine del nostro comprensorio. Cominciamo col basket dove la Stemar andrà la domenica a Roma con la Tiber per cercare il riscatto, invece anche in trasferta ma da prima della classe il Pirgi a Frascati, ancora è in trasferta il Sant'Aella che va a Oste contro l'LDR e in casa invece la domenica 94 giallo-blu con l'Aurelia. Per quanto riguarda la palla a volo con l'Iglesias, l'Asp che riceve appunto la squadra sarda serve la vittoria avversa linea in classifica e quindi non si può sbagliare. Nella femminile le due compagini sembrano volere volare, quindi Margutta e Asp. Nella palla a mano, come ho detto, inizia proprio domani alle 16.30 il primo match del campionato dell'A2 e qui al grammatico ci arriverà il Pontinia. Mentre nel calcio a 5 c'è un turno difficile per le Cedecchiese contro Arranova e Ciampino, mentre il TD con il Carabognano vuole i tre punti. La palla a nuoto è ferma, è l'ultimo fine settimana libero per i Rosso Celesti. Sabato 21, quindi il prossimo, andrà a iniziare il campionato in casa con la Rechi. Il vicepresidente Feuli fa il punto della situazione di una squadra che si presenterà ampiamente rimaneggiata e che ha cambiato 5 tredicesimi nel giro di 12 mesi. Poi andiamo alla ricca pagina del calcio. È un derby attesissimo e anche molto duro, quello tra Tolfa e Civitavecchia, col Tolfa che è secondo in classifica a quota 20 e Civitavecchia ben più staccato a quota 12. C'è area di panchina che scotta, cioè quella di amici nel Civitavecchia e quindi una prestazione buona o una eventualmente brutta partita potrebbero andare in là al mister Neroazzurra. Per quanto riguarda il calcio giovanile, tornano in campo tutte le formazioni Bevi con la Civitavecchia che gioca la Juniores, domani contro in casa, contro il Tuscia Foglianese, poi gli allievi elite vanno a Montesaco domenica mattina, mentre gli allievi B vanno sempre in trasferta contro il Savio. Nei giovanissimi regionali il Civitavecchia riceve il Corneto e questi sono i Nerazzurri, nel DLF, gli allievi regionali 99 ricevono in casa il Bracciano la mattina di domenica, gli allievi B 2000 giocano in casa invece sabato col Vista Aurelia, giovanissimi elite giocano fuori contro la Petriana di domenica e i giovanissimi fascia B giocano in casa con il Savio. Nella CPC, Bracciano CPC domani e poi sempre domani agli allievi provinciali CPC Morialdina. Passiamo invece al calcio di promozione, il Santa Marinella gioca con l'Olimpia, mentre il CPC va a caccia dei tre punti per cercare di incrementare il suo primo posto in classifica che viene condiviso per il momento con il Ronciglione. In prima categoria invece la Sampio gioca con la Vista Aurelia e il rosso-blu la CSL gioca a Roma contro il Casalotti che sono secondi in classifica, mentre la Sampio veleggia a quota 4 in penultima posizione e la CSL a metà classifica con 8 punti. Questo è un po' il panorama, chiudiamo con una bellissima notizia che il Sincro a Civitavecchia dopo i due bronzi mondiali del duo misto di Minisini che è comunque un atleta tesserato SNC, adesso ci sono le prime atlete convocate con le rappresentative giovanili della Nazionale di Sincro, sono 5, convocate dalla Nazionale giovanili e quindi questo è il primo viatico di un settore nato da pochissimi anni a Civitavecchia ma che sta dando sempre più soddisfazioni ai propri genitori, alla società ma anche a tutta la città. Buonasera e a risentirci con i prossimi notiziari. Grazie per la visione!